Siamo con Luca Fazzini, una vittoria convincente ci voleva dopo la prestazione di martedì sera. Sì, chiaro, ci doveva essere una reazione fin da subito, abbiamo provato subito a mettere sotto pressione, siamo andati avanti nel primo e poi anche nel secondo e nel terzo siamo riusciti a gestire la partita e ci volevano questi tre punti. A differenza della partita contro il Lagnau, stasera non perdevate quasi nessun duello alle balaustre, forse è stato questo il motivo principale della vittoria di questa sera? Sì, chiaro, contro il Lagnau ho iniziato malissimo, sono d'accordo con te, perdevamo quasi tutte le battaglie, questa sera è stato il contrario, siamo stati molto più aggressivi e questo ha portato i suoi frutti. E stasera anche una rete dopo dieci partite di astinenza, quanto ti fa bene al morale? Chiaro, fa bene, per un attaccante come me fa sicuramente bene ritrovare la rete, adesso bisogna continuare così.